Allora, portiamo a casa questi due punti importanti. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita, un buon approccio. Onore dal vero, San Martino ha giocato senza due straniere e quindi si è visto. Però proseguiamo nella nostra strada. Oggi di positivo è che dopo dieci giornate siamo primi in classifica, assieme a Luca e Schio, e questa è una grande cosa. Sapendo che ci aspetta una settimana impegnativa, la prossima, dove sia in Coppa che a Napoli dovremo fare una prestazione super per portare a casa i risultati. Prestazione super anche oggi comunque? Sì, sì, oggi c'è stato un buon contributo da parte di tutte. Infatti lo dimostra anche il 109 di valutazione. Tutte le giocatrici hanno dato il proprio contributo. Oggi, onore del vero, Favento ha fatto una partita super, però è da un po' che si allena bene. Magari prima non gli entrava il tiro, oggi gli è entrato. Dobbiamo stare lì sul pezzo perché per stare ai piani alti serve ancora molta concentrazione e lavoro.